L'affidamento da parte del Comune di Eboli del Centro Polifunzionale dei Santi Cosma e Damiano alla cooperativa Nuova Ises è illegittimo. A certificarlo l'Autorità Nazionale Anticorruzione, presieduta dal magistrato Raffaele Cantone. L'ANAC, in un'istruttoria di 13 pagine, ha messo in evidenza i profili di anomalia e criticità nell'operato dell'amministrazione comunale e l'illegittimità dell'affidamento diretto della concessione di uso e gestione del centro polifunzionale operato dal Comune di Eboli in favore della cooperativa Ises, in violazione delle regole dell'evidenza pubblica.